amici ed amiche di salvo gamer bentornati sul mio canale oggi vi voglio mostrare una cosa abbastanza carina anche importante per quanto riguarda sempre la ps2 e nel dettaglio per quanto riguarda l'utilizzo di roms o giochi ps1 psx su playstation 2 modificata col free hd boot per chi avesse seguito i miei precedenti video sa che nella ps2 c'è la possibilità di effettuare una modifica software chiamata free mc boot la free mc boot si installa sulla memory card ma esiste anche la versione da installare su hard drive quindi su hard disk che si chiama free hard drive boot quindi free hd boot noi oggi abbiamo davanti una console ps2 fatta appunto col free hd boot con hard disk interno dove abbiamo caricato in precedenza le roms per la psx e abbiamo utilizzato opl quindi open ps2 loader e pop starter che è l'applicazione per utilizzare le roms ps1 su ps2 in combinata per poter giocare ai giochi ps1 dall'hard disk se avete sempre seguito il mio video per l'installazione delle roms e tutta la procedura anche l'installazione opl pop starter avete visto che alla fine per uscire dai giochi c'è una procedura particolare da seguire ovvero la procedura sarebbe di schiacciare contemporaneamente i tasti l1 l2 r1 r2 select e start del controller a quel punto si apre una finestra per effettuare l'uscita dal gioco ma quella finestra è in giapponese quindi non si capisce nulla ovviamente di quello che c'è scritto si va a tatto si sa che bisogna spostarsi ci sono due pussanti a schermo bisogna spostarsi sul pussante di sinistra che sarebbe quello di conferma schiacciare il tondo sul controller e la console esce dal gioco ma c'è anche il modo di installare una patch diciamo che permette di aprire finestre anche diverse di grafica e soprattutto diverse di lingua non esistono ancora finestre in lingua inglese ma esistono in inglese scusatemi lingua italiana ma esistono in inglese portoghese tedesco francese quindi possiamo installare diverse lingue in primis vorrei ringraziare il nostro amico neogenio che è un assiduo frequentatore del canale che mi ha fatto notare questa cosa l'esistenza di questa procedura quindi grazie mille e grazie per avermi informato di questa cosa e adesso vorrei condividere tutto con voi quindi partiamo con quello che ci occorre ovviamente ci occorre la nostra ps2 fat con hard disk integrato e installato nella console con i giochi psx e poi ci serve una usb stick in formato fa 32 per essere informato fa 32 la usb stick non deve essere superiore 32 giga se vogliamo formattarla con windows o se fosse superiore ai 32 giga possiamo formattarla con programmi di terze parti quindi oggi vi farò vedere sia la formattazione tramite windows perché la mia usb stick è 32 giga sia la formattazione con un altro software che si chiama gui format che è il software che utilizzo sempre io nei miei video quindi partiamo con i download dei programmi dei software che ci occorrono in primis si va sulla pagina ufficiale del pop starter dove appunto possiamo anche scaricare il pop starter elf che servirà per far eseguire i giochi psx ma quello che è importante è che scendendo nella pagina a un certo punto troviamo questa sezione delle textures nelle texture come vedete ci sono varie grafiche innanzitutto ma soprattutto sono in lingue diverse quindi non sono in giapponese ma sono appunto come dicevo prima in inglese tedesco e così via a seconda delle schermate ovviamente non tutte le schermate sono in multilingua alcune saranno solo in inglese ma comunque ci sono varie lingue disponibili noi oggi andremo utilizzare questa schermata esattamente quindi ovviamente io scaricherò la lingua inglese per scaricare bisogna andare sotto le immagini e selezionare i link sotto io seleziono quello per inglese quindi schiaccio su media fair link link e poi download e pc mi scarica il pacchetto che andrà installare nella console le lingue addizionali con oltretutto una grafica differente per quanto riguarda le usb stick come dicevo se avessi usb stick superiore 32 giga per formattare infatti 32 vi serve gui format quindi bisogna scaricare questo sotto io non lo scarico perché l'ho già installato però ovviamente vi lascio il link nella descrizione come sempre come molto spesso perlomeno i file che andremo a scaricare come il pacchetto che abbiamo appena scaricato da media fire scusatemi è in formato zippato quindi vi serve anche un software di decompressione delle cartelle io utilizzo solitamente winrar o 7 zip io vi lascerò il link per scaricarvi ed installare 7 zip quindi detto questo quello che ci occorreva l'abbiamo già scaricato possiamo abbassare la nostra finestra apriamo la cartella dei download ed andiamo a prenderci il file che abbiamo appena scaricato eccolo qua questo è il file che abbiamo appena scaricato destro del mouse e cliccate su estrai file una volta estratto il file lo troveremo qua da qualche parte dovrebbe essere qua in zona ecco qua e ovviamente non trovo l'ultimo che ho scaricato che quello che ho fatto vedere a voi eccolo qua eccolo qua l'abbiamo trovato questa è la cartella del file che abbiamo appena scaricato qua dentro c'è questo questi questi file questi tre file quindi è un pacchetto di file che andranno installati nella ps2 per poter cambiare la lingua appunto a quella finestra di cui parlavamo questo è solo il file immagine che ci mostra il rendering della finestra che andremo ad installare ora cosa facciamo mettiamo la nostra usb stick nel pc ed andiamo a formattarla quindi abbiamo aperto il pc questa è la nostra usb stick se fosse inferiore 32 giga destro del mouse formatta ci assicuriamo che sia infatti 32 qui mettiamo dimensione di allocazione predefinita qui volendo potete mettere il nome della chiavetta o lasciare in bianco o lasciare com'è qui cliccate formattazione veloce e poi cliccate l'avvia per formattare se invece la chiavetta fosse superiore ai 32 giga andiamo utilizzare gui format attenzione ovviamente prima di formattare tenete sempre presente che con la formattazione si cancellerà tutto quello che c'è dentro la chiavetta usb quindi se la chiavetta non fosse vuota e ci fosse all'interno documentazione a voi necessaria o comunque che vi possa servire o a cui tenete fatevi un backup dei file prima di formattare ora vi faccio vedere come formattare con gui format gui format lo aprite lo eseguite andate ad assicurarvi che l'unità selezionata sia quella corretta andate a selezionare quick format qua se non lo fosse qua potete sempre dare un nome alla vostra usb stick se lo desiderate e una volta che avete finito tutto qua cliccate su start qui lui vi dicevi fare attenzione che mentre formattate cancellerete tutti i file all'interno della chiavetta ovviamente se avete fatto già il vostro backup schiacciate ok una volta formattata la chiavetta l'usb stick il software vi da il don qua quindi vuol dire che ha finito e possiamo chiudere ora riapriamo la nostra usb stick doppio clic prendiamo i tre file che noi servono e li mettiamo dentro la usb stick nella root non abbiamo bisogno di creare una cartella qui facciamo cartella superiore destro del mouse sulla nostra usb stick clicchiamo su espelli una volta che è possibile rimuovere l'hardware lo togliete e ci portiamo sulla console bene ora siamo sulla console inserite la usb stick nella porta superiore usb della console ed avviatela ovviamente avendo il free hd boot in un hard disk nel mio caso da un terabyte ci metterà un pochino a caricare perché ovviamente deve leggere un hard disk di grandi dimensioni e le ps2 sono console di vecchia concezione quindi non hanno una gran velocità sulle letture degli hard disk una volta caricata la modifica andate su un lancio al su hdd x e attendete che carichi browser qui tondo andiamo su hdd x andiamo su common x pops x con il cerchio selezionate i tre file già dentro la cartella come vedete sono file con lo stesso nome rispetto comunque con la stessa estensione rispetto a quelli che noi abbiamo recuperato online perché in teoria se la cartella non è stata toccata qua dentro ci sono già quei file per la schermata in giapponese quindi voi con il tondo li selezionate finché non vedete il pallino nero di fianco poi schiacciate r1 e andate su delete e poi schiacciate x per cancellarli qua date la conferma e cancellate quei tre file ovviamente per andare a copiare i file nuovi dentro la nostra cartella la cartella deve essere sprovvista di quei file adesso schiacciate triangolo 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 andiamo giù su mass che è la nostra usb stick x e adesso con lo stesso sistema di prima quindi col tondo selezioniamo i nostri tre file da spostare una volta che abbiamo selezionati tutti r1 copia x come vedete in alto a destra appare un quadratino verde che indica che i file sono stati presi adesso triangolo andiamo su su hd ancora x common x pops x r1 x su paste una volta che ha copiato i file dentro la cartella possiamo riavviare la console ora ci spostiamo suo p o pl per andare ad eseguirlo come ricordate se avete seguito i miei precedenti video io posso linkare delle applicazioni che uso frequentemente alla home page della console quando vado a linkarle posso decidere anche un nome per quelle applicazioni ed io invece di chiamarla o pl ho preferito chiamarla psx e ps2 games quindi questo psx e ps2 games non andrà nient'altro che a lanciare o pl voi nella vostra schermata potreste avere o pl se non avete modificato il nome quindi lanciate o pl o qualsiasi altro nome avete voi dato all'applicazione x per lanciarlo e attendiamo che carichi chi avesse esperienza con le ps2 modificate e con l'utilizzo di o pl ricordate che io sto utilizzando o pl 10 anniversary che non è l'ultima versione di o pl perché l'ultima versione dovrebbe essere la 1.2 e quindi è completamente diversa in avvio e anche come schermata iniziale ma io uso upl 10 anniversary perché le ultime versioni di upl non fanno girare le roms della ps1 ma solo quelle della ps2 quindi io utilizzo upl 10 anniversary così posso utilizzare sia ps1 che ps2 queste sono le mie roms ps1 ne lancio una a casa quindi a caso quindi lanciamo pure la prima mi ci posiziono sopra e ci caccio x per eseguirla qui posso anche schippare premendo x così mi porto direttamente alla schermata iniziale ecco qua qui pre start quindi siamo alla schermata iniziale del gioco se volessi uscire dal gioco adesso come ho fatto vedere in passato devo schiacciare l1 l2 r1 r2 select e start su controller in passato qui si sarebbe aperta la famosa finestra in giapponese dove noi dovevamo spostarci a sinistra e poi schiacciare il tondo per chiudere come vedete invece adesso si apre la finestra che abbiamo applicato noi quindi quella che abbiamo appena scaricato quindi ci spostiamo su yes e schiacciamo tondo per dare l'ok a questo punto la console come faceva esattamente prima si esce dal gioco e si riavvierà alla home page spero che questo video possa aiutarvi che possa essere un aiuto gradito diciamo un qualcosa che volevate risolvere non sapevate come risolvere e quindi nella speranza di avervi aiutato ringrazio tutti per aver seguito questo video vi auguro una buona giornata e ci troviamo il prossimo video